Cicchitto dice che voi giocate allo sfascio insieme al Movimento 5 Stelle. Non conosco Cicchitto. No, allora di fronte a battute pregiudiziali di questo genere valgono anche le controbattute. Noi stiamo con la Corte Costituzionale. Chi pensa di poter far finta di niente? Che cioè dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che non sia successo niente, beh, chi pensa in questa maniera è uno sfascista. Perché la Corte Costituzionale è il giudice delle leggi. La legge elettorale è una legge, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge elettorale in due punti fondamentali. Adesso aspettiamo di leggere la sentenza. Dire che bisogna prendere atto della sentenza della Corte e che questo Parlamento di fatto è illegittimo, è sfascismo. Ripeto, io credo che pensare che non sia cambiato niente e che tutto vada avanti come prima, questo è da irresponsabili. Anche perché questo sì consegna l'Italia nelle mani di Grillo. Perché a questo punto chiunque pensa che questo è un Parlamento illegittimo, che questa maggioranza che sollege ricoletta è una maggioranza illegittima, si trova rappresentato da Grillo. Come si fa a resistere alla sentenza della Corte Costituzionale? Far finta di niente. Noi non riusciamo a far finta di niente. Noi siamo per fare una nuova legge elettorale, al più presto, maggioritaria. A noi piace il sistema spagnolo. Da fare subito e per andare subito alle elezioni. Subito alle elezioni a marzo. In maniera tale da non lasciare questo Paese in mano a un governo e a un Parlamento illegittimi. Parlamento illegittimo.